Grazia Corazzini è una dolce signora casalinga con la passione per l'arte. A Melfi la sua personale di pittura presso il Museo Civico Donadoni, organizzata da Archeoclub. Questa mostra è fatta con amore, perché io sono una casalinga, non ho fatto l'accademia, però ho un figlio che ha fatto l'accademia, professore, e ogni tanto mi sgridava se non facevo le cose giuste. E così piano piano ho imparato a fare le cose giuste. E come vedete non so se sono giuste, per me sono giuste, poi è il pubblico che deve decidere del mio lavoro. Che tecnica ha adoperato? Olio su tela. Da quanti anni lei espone e coltiva questa passione? Sono quasi 19 anni. A Melfi per la prima volta? A Melfi per la prima volta. Poi sono stata in altre città, cioè Susa, Torino, è tutto quasi mezzo Piemonte, perché dovrei fare un elenco molto lungo. E adesso sono qui. In Basilicata. In Basilicata dove sono nata, 80 anni fa. I volti, le persone, le immagini sacre, tra le opere preferite da Grazia Corazzini, per una mostra che rimarrà aperta fino al 6 gennaio prossimo. Ma l'opera più legata sono le persone, cioè quelle che mi emozionano. Tutto mi emoziona, se no non avrei fatto niente. Ma ci sono delle cose, per esempio la Madonna che c'è nell'entrata. Mi rappresenta un po' io come mamma, perché ho avuto quattro figli, e mi sento un po' non la Madonna, però una che sa fare il fatto suo. Un piaccio. Un piaccio. Un piaccio.